Questo è un RPG. Anche questo è un RPG. Questo non è un RPG. Però questo è un RPG. Se siete confusi, continuate a guardare questo video. Io come sempre sono Vlad Sparro e Sua Cose e oggi rispondiamo alla domanda. Che cos'è un RPG? A causa di film e videogiochi ormai hai tendenza a chiamare qualunque tipo di arma portata in l'anticarro come RPG o bazooka. Dobbiamo fare una distinzione molto importante, ovvero capire che cos'è l'RPG in senso stretto e in senso lato. La sigla RPG normalmente sta per Rocket Propelled Grenade, granonata a propulsione a razzo. Il termine però RPG è un cosiddetto acronimo inverso, un particolare fenomeno linguistico. Facciamolo se lo spiegare da un linguista. Ciao Vladone, grazie dell'invito, è sempre un piacere parlare di linguistica sul tuo canale. L'acronimo non ha bisogno di presentazioni, no? È una parola che deriva dal greco, acron, onoma. Acron che vuol dire estremità, onoma che vuol dire nome. Quindi l'acronimo avviene quando prendiamo le prime lettere o le prime sillabe di parole che sono concatenate insieme in una locuzione e le fondiamo in un'unica parola. Ecco, come il caso di RPG. L'acronimo inverso è pur sempre un acronimo, o alle volte non lo è neanche, ma succede l'effetto contrario, cioè esiste l'acronimo e si cerca di srotolare l'acronimo in parole o come strumento mnemonico, semplicemente un modo per ricordare l'acronimo dandogli una frase di senso compiuto, oppure con delle pseudoetimologie che continuano ad esistere, o per fini umoristici, oppure perché continuano ad esistere e basta. Un classico esempio è la SPA, incluso come il centro benessere con le acque termali. In molti dicono che SPA sarebbe l'acronimo latino di SALUS per ACQUA, cioè Salute attraverso l'acqua, però in realtà SPA deriva da una località del Belgio, quindi questa è una pseudoetimologia e un acronimo inverso. E questo è tutto per quanto riguarda gli acronimi e gli acronimi inversi. Il linguista Requieto vi saluta. Ciao! Non perdetevi il canale di Arnaldo, è interessantissimo, e ho anche avuto il piacere di aspettarlo a Poznan, in Polonia, dove gli ho insegnato a sparare. Recuperatevi anche quei video. Ma andiamo al dunque. Il termine RPG nasce prima della sua versione inglese in russo, e vuol dire una cosa simile ma un po' diversa, perché vuol dire Ruchnoi protivotankovei granatomiot, ovvero lanciagranate portatile anticarro. Chiamare ogni tipo di lanciagranate o lanciamissili RPG diventa popolare da parte dei soldati americani in Vietnam, i vietnamiti armati di un grosso quantitativo sia di RPG-7 che di RPG-2. Essendo quelle armi chiamate in russo RPG, qualunque cosa che volava di esplosivo contro di loro automaticamente era un RPG. E che cosa vuol dire RPG? Rocket Propelled Grenade. Entriamo però nel dettaglio tecnico, che sono quelle cose che vi piacciono a voi. Il termine RPG in realtà va a indicare, in senso stretto, un modo molto specifico di propellere l'esplosivo, spesso una carica cava, contro un obiettivo. Vedete, anche se abbiamo tante armi che hanno un tubo di lancio e un proiettile, questo proiettile viene lanciato in maniera diversa. Infatti dobbiamo fare la differenza tra lanciagranate, lanciarazzi e cannoni senza rinculo. Perché tecnicamente ci sono parecchie differenze, e quando capirete queste differenze capirete come l'RPG-7 in senso stretto non è un RPG. Però l'RPG-29 successivo lo è. E la chiave per capire anche questa cosa sta nel nome. Una granata è semplicemente un proiettile che va in avanti senza una propulsione, a differenza del razzo che continua ad avere una propulsione nel volo. Anche il bazooka americano, o appunto l'RPG-2 russo, l'RPG-29 moderno, sono lanciagranate, che però utilizzano un combustibile a razzo per lanciare questa granata. Questo razzo brucia, ma soltanto all'interno del tubo. Quando la granata sta uscendo fuori dal tubo, il razzo si spegne. E quello che vola è una granata senza propulsione alcuna. Quindi il tempo di accelerazione in realtà è molto breve. Se invece abbiamo un tubo aperto sul retro, ma non utilizziamo un motore a razzo, ma utilizziamo dell'esplosivo, della polvere da sparo, avremo a che fare con un cannone senza rinculo. Un esempio di cannone senza rinculo popolare nei film e videogiochi è il Carl Gustav modello 48. Lancia una granata, ma la granata non ha una propulsione a razzo, ma è proprio lanciata con polvere da sparo. Solo che essendo aperto sul retro, come dire, non c'è rinculo da cui cannone senza rinculo. Non è un RPG quindi. Quindi questa è la differenza tra RPG, granata a propulsione, a razzo sottointeso, e il cannone senza rinculo. E i lanciarazzi allora, beh, il razzo, a differenza della granata, ha un suo motore che lo propelle durante il volo. Perché l'RPG-7, anche se si chiama RPG, in realtà in russo non è riferito a Rocket Propel Granade, ma i rocnoi, protivotankov e i granatomiot, non è un RPG, ma in realtà un lanciarazzi, perché il razzo dell'RPG viene lanciato prima da una prima carica, e dopo circa 10 metri di volo accende il proprio motore, per accelerare ancora di più. Perché questo lancio in due fasi? Un po' come abbiamo visto con il Javelin. Semplicemente perché la vampata del fuoco che uscirebbe dal motore a razzo sarebbe pericolosa, se non letale per l'operatore. Abbiamo visto una cosa un po' simile con il Panzerschreck, dove vi era uno schermo a protezione dell'utilizzatore. Il Panzerschreck era un po' un RPG imperfetto, perché il motore a razzo bruciava ancora per un breve tratto dopo essere uscito fuori, potremmo dire quasi tecnicamente un mezzo ibrido. Ma il vero motore dell'RPG è un razzo che viene acceso, che si accende circa dopo 10 metri dal primo lancio. E quindi tecnicamente si potrebbe fare l'argomento che è un razzo. L'idea per questo video tra l'altro mi vende parlando con Alberto Tabone, produttore del programma Spari e Sport, che mi fece vedere brevemente un video di un AT-4 che viene utilizzato, l'ha descritto come lanciarazzi. Io gli dissi, beh, non è un lanciarazzi. Che cos'è? Lo dovete andare a scoprire voi e scrivermelo nei commenti. Nella pratica stessa dell'utilizzo di questo tipo di armi, all'utente in realtà poco importa in un certo senso se abbiamo a che fare con un vero lanciagranate, un lanciarazzi o un lanciamissili come il Javelin, o un cannone senza rinculo. Ma dal punto di vista tecnico la differenza non è indifferente e spero che adesso avete capito da dove viene la parola RPG, che cosa vuol dire e quali armi effettivamente sono o non sono RPG. Se vi interessa sostenere quello che faccio, considerate seguire i link in descrizione. Noi come sempre ci vediamo alla prossima!